Siamo allo stand di Kennell, Kennell distributore audio e video in Italia ormai da parecchi anni e abbiamo deciso di esporre anche quest'anno Almir proprio per dare la possibilità alla nostra clientela di avere una panoramica sui prodotti che abbiamo a disposizione. Per la distribuzione del segnale video abbiamo scelto come partner SY per l'affidabilità ma soprattutto per la nuova concezione dei prodotti che ha questa azienda. In ogni loro prodotto utilizzano sempre delle particolarità che aiutano i system integrator a lavorare sempre meglio e più velocemente. Abbiamo deciso comunque di distribuire un prodotto come SEADA per dare la possibilità ai nostri clienti i system integrator di offrire al cliente e all'utilizzatore finale un prodotto per creare delle video wall delle composizioni di monitor, videoproiettori, led wall particolare e quindi poter stupire poi la clientela. SEADA non è solo questo, SEADA è anche prodotti per il conference, quindi monitor motorizzati. Abbiamo un prodotto molto molto interessante che è sempre un all-in-one. Quando abbiamo una conferenza, un podio, arriviamo con il nostro prodotto già completo, computer, monitor touch, microfono integrato, un array di microfoni integrati e speaker anche. Un brand importante per Canel è sicuramente la FON con cui abbiamo una partnership consolidata. Oltre ad avere ovviamente un suono pieno, un suono caldo, un suono importante, ma adotta all'interno dei propri prodotti delle tecnologie non usuali dal trasporto e dalla tipologia di trasporti utilizzati, quindi con conversione da Dante piuttosto che in altri formati, ha proprio la tipologia con cui possiamo trasportare il segnale audio, la potenza e il controllo. È talmente vasta la loro gamma di prodotti e può adattarsi a qualsiasi esigenza dei clienti, però sempre mantenendo comunque un alto livello di tecnologia e di qualità e di suono.